In vestì ed uccise la 48enne salernitana Ilaria Di Lillo, è stato condannato a 7 anni ed 8 mesi Domenico Di Ele. La sentenza è stata emessa con l'accusa di omicidio stradale dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Salerno, dopo il processo che ha in primo grado evidenziato la responsabilità dell'attore romano che le nanotte tra il 23 e il 24 giugno del 2017 travolse con la sua auto Ilaria Di Lillo, che era a bordo del suo scooter sulla corsia nord della 2 del Mediterraneo, nei pressi dell'uscita di Montecorvino Pugliano. Di Ele, in stato di alterazione psicofisica e a causa dell'uso di sostanze assupervacenti, falciò la donna morta sul colpo.